C'è chiamato il signor Michele Fonti e come potete notare alle nostre spalle una conca piena d'acqua, cioè la strada è completamente dissestata. Lei mi spiegava che questa strada che non ha un nome, siamo nei pressi della zona industriale di competenza del Comune. Sì, siamo incontrati a Cammarella, questa è un'arteria fondamentale che conduce il centro abitato alla zona industriale, la seconda arteria importante per arrivare alla zona industriale. Qua siamo proprio nel fulcro dove ci sono l'ingrocio di tre strade, da questa parte noi abbiamo la strada provinciare che è di competenza della provincia, da qua inizia la strada di competenza della zona industriale e fino a qua siamo di competenza del Comune. Più volte è stato segnalato questo disagio dovuto a queste conche che ci sono, a queste buche, che quando c'è cattivo tempo e piove, questo diventa un unico lago. Ovviamente il lago porta a non far vedere le buche, quindi molti utenti, molti residenti si trovano, ancora magari i residenti purtroppo sanno già dove stanno le buche e li scansano, magari invadendo la corsia di sinistra, ci siamo, quindi andando contro mano, con il discorso di qualche volta rischiare un impatto frontale con colpa addirittura. Però come si può vedere, guardate potete vedere tranquillamente, vedete come entrano le macchine dentro le buche, ci siamo. Questa è una strada dimenticata dal Comune da diversi anni perché tra virgolette non è illuminata, siamo vicino al centro di raccolta del lato e in più, oltre che vi mostrerò che ci sono diversi discarici, una discarica di Ethernet e tutte cose, è anche molto rischiosa, come ho fatto più volte la segnalazione, che in curva ci sono degli accessi sia per il centro di raccolta che anche per l'accesso al depuratore. Questo fa sì che uno che procede in una curva, possibilmente, guardate, io stavo guardando la macchina che è entrata proprio all'interno della buca, fa sì che magari accedendo una macchina che esce dal depuratore, giustamente esce in una curva. Chi arriva in questa curva non lo vede, col rischio di fare il grosso incidente già ci sono stati, tra virgolette. Però si continua a non vedere questa soluzione e i residenti ora si sono stancati, infatti hanno intenzione, io parlo per conto dei residenti della contrada Cammarella, si sono stancati e ovviamente ci stiamo muovendo per fare sì un'azione anche nei confronti del Comune. proprio per salvaguardarci che oggi e domani i nostri figli vengono coinvolti in incidenti banali che si potevano risolvere con poche migliaia di euro, non dico che ci sono molte una cifra esorbitante, cioè da risistemare il mando stradale e far sì che, come potete già vedere, anche le persone che accedono alla zona industriale accedono con molta tranquillità. Grazie a tutti i nostri figli.